Tu vai là. Gareggi, vinci, poi torni subito qui. Indossi queste protezioni, non dimenticare. Se distruggi questo corpo, non potrò ripararlo. Sì, lo so. Stanotte non è un gioco. Contendenti, ai vostri posti. È una caccia. Ed ecco le sorviette. Uccidete la giovane chiamata Alita. Alita! Alita! È una trappola, devi andare via da lì. Ti uccideranno. Chi di loro? Tutti quanti! Andateci piano con me, ragazzi. Certo, ragazzina. Tranquilla. E' un'altra trappola. Alla! Andateci piano con me, ragazzi. Alla! Si! Qui inquieti. E' un gioco. E' un gioco. E' un gioco. E un gioco. E' un gioco. Grazie per la visione!